Non si ferma il mercato delle abruzzesi in vista dei prossimi campionati. In Serie D il Chieti rinnova il difensore classe 2002 Tommaso Marino, ma il colpo del giorno lo firma il Città di Teramo in eccellenza, con il DS Paolo Dercole che dopo aver preso l'attaccante argentino Thomas Oses, chiude anche per il centrocampista 31enne Francesco Esposito, con un passato in Serie D nel Pineto e nella Vastese per aggiungere qualità nella zona nevralgica. Nell'amichevole che Biancorossi hanno vinto 14-0 contro la Juniors del Torricella, in grande evidenza le prestazioni di due attaccanti in prova, Bussufarra e Mercado. Sempre in eccellenza il Giulianova è ancora alle prese con il nodo attaccante da sciogliere, dopo che il presidente Mucciconi ha promesso un grande nome, mentre la Sant'Egidiese ufficializza la doppia conferma del capitano Lino Petronio e dell'attaccante Manuel Manari. Grande rinforzo in mediana per il Celano, che ingaggia Domenico Rocchino, ex Aprilia. Frizzante anche il mercato in promozione, dove il giovane allenatore del Miglianico Lanciano, Matteo Fasciani, ha scelto Antonio Dell'Oglio come suo nuovo vice, mentre l'altra squadra della città, il Lanciano 1920, acquista il centrocampista Thomas Casteglio. Restando in terra frentale, il favale ufficializza gli arrivi del difensore Michele Ferretti e del centrocampista Loris Girolami. Il rapino conferma invece il difensore Mattia Marrone.